L'abbraccio più bello, quello della sua città? Sì, era doveroso, insomma perché la mia città mi ha dato grandi soddisfazioni, pur non essendoci stato in questi due mesi di campagna elettorale, insomma mi ha confermato il suo affetto, io sono grato, profondamente grato a questa città che mi stupisce sempre. E adesso si aspetta una nomina importante perché il Tirreno lo reclama e anche Giuseppe Eda per il rapporto che ha avuto con Oliverio? No, io non mi aspetto nulla, quello che mi aspettavo me lo hanno dato i miei amici, i miei elettori, la mia città, la provincia di Cosenza, io non creerò problemi ad Oliverio perché Oliverio ha il diritto di lavorare in santa pace, di non avere problemi di nessun tipo, tanto più problemi politici. Noi siamo con questo grande presidente che la Calabria attendeva da anni, dobbiamo solo lavorare, lavorare sodo, questa non è una festa, è un ringraziamento perché la festa verrà dopo i cinque anni con i risultati che porteremo. Un'ultima cosa Sindaco, c'è poi da lasciare il testimone a Cedraro? Sì, lo faremo come abbiamo sempre fatto, con lealtà, con grande umiltà, scegliendo la cosa migliore, la via migliore, non è in gioco il destino dei singoli ma è in gioco il destino di una comunità, troveremo la quadra. Consigliere, se è già iniziato bene, 80 milioni di euro sbloccati per gli ammortizzatori sociali in deloga, è un buon viatico il vostro? Sì, questo è un segnale importante, in una regione depressa economicamente dobbiamo dare identità a questi lavoratori che lo meritano perché sono fondamentali nei comuni.